In nome del Padre e del Figlio, lo Spirito Santo, così sia, se lo dato Gesù Cristo, cari fedeli, quarta domenica dopo Pentecoste inizia la serie dunque delle domeniche, quale si porta anche il Parlamento Verde e si continua, dopo aver festeggiato, celebrato i grandi misteri della redenzione, per ultimo dunque quello del Sacro Cuore, si continua a essere istruiti la Santa Madre Chiesa per santificarci, per fare la nostra salvezza, per allontanarci sempre di più dalle sirene del mondo, le sirene del mondo vogliono renderci sempre tutto molto compiacevole e facile, risolvere tutti i problemi anche del mondo in modo con naturale a noi, cioè in modo naturale, semplice, a portata di mano, perché poi il mondo odia che bisognerebbe rivolgersi all'acrote di Gesù Cristo per risolvere i problemi. Ci sono modi anche alla portata di tutti, basta dire no all'immigrazione, non la voglio l'immigrazione, io sono qui a casa mia, loro che vadano a casa loro. Sì, però poi si subentra uno che inizia a parlare, perché la fede, perché bisogna vivere nel sacrificio, no, meglio di no a questi discorsi, perché la gente non lo capisce e non si potrebbe avere i voti per avere una legge che magari blocca e manda indietro l'Aquarius. Tutti atteggiamenti che sono diametralmente contrari all'insegnamento della Chiesa. Poi, guai, se si alza uno e inizia a parlare contro le coppie di fatto omosessuali, non è il momento adesso proprio di andare a eccitare le ire di queste lobby così potenti e poi dire che non ha una famiglia e mettere in avanti la famiglia cattolica con tanti figli, ma dove siamo? Scoraggiamo tutti, abbiamo tutti altri problemi. Questo tremendo senatore Fontana che stesse solo zitto, che se la tenesse per lui, la sua convinzione privata cattolica, non c'entra niente con la politica. Noi abbiamo altri problemi. Cari fedeli, guai a noi, guai a noi se queste sirene del mondo ci otturano le orecchie del cuore e ci fanno fuggire la croce di Cristo per correre dietro i miraggi di presunte soluzioni dei problemi attuali. perciò noi inchiniamo l'orecchio del cuore nostro alla potente, onnipotente, parola di Dio e cogliamo l'insegnamento della Chiesa che oggi San Girolamo ci dà di quella barca che certamente significa, dice, la Chiesa che in San Matteo è sbattuta dai flutti del mare ma che in San Luca è piena di pesci dando appunto l'esempio di com'era la nave all'inizio quando era sbattuta da tanti flutti invece poi quando era arrivata a maturità si riempiva di tanti pesci quella nave sbattuta dai flutti è quella che ha come navigatori ci viene insegnato dei negligenti, dei tiepidi ai tiepidi è detto Gesù Cristo dorme ma quando Gesù Cristo dorme sono vive le ondi forti e le ondi forti sono ben le nostre passioni le nostre immaginazioni e allora siamo sbattuti come presi a schiaffi dalle nostre proprie potenze interne immaginazione, ogni tipo di influsso su di noi che non riusciamo a controllare perché tiepidi perché non contro ma non necessariamente e effettivamente e fino nell'ultimo modo di essere seguaci di Gesù Cristo e allora sì il navigatore tiepido ci viene insegnato è in grandissimo pericolo e rischia di rovesciarsi come ci sono rovesciati quei navigatori tiepidi che hanno iniziato a patteggiare con le grandi potenze del mondo e che dalla barca di Pietro sono cascati nel mare del modernismo della chiesa modernista invece il navigatore ha veduto il navigatore perfetto ci insegna San Gerolamo è quello che porta la barca dalla sapienza e soprattutto dalla fede che gli dà sicurezza che gli dà certezza e che gli dà ancoraggio nell'amore divina e quella è la barca dei perfetti la barca di coloro che non dormono la barca di coloro che seguono Gesù Cristo e poi la riempiono fino a trabocco di pesci e aggiunge San Gerolamo un ulteriore grande insegnamento ci viene dato dice ben Gesù Cristo gettate gettate plurale le reti ma solo a Pietro dice duk in altum vai all'argo cos'è quel largo? quel largo è la profondità la sublimità l'altezza del mistero divino che poi è il mistero della fede affidato in esclusiva a San Pietro a scrutarlo a difenderlo e si tratta dice il santo di confessare il figlio di Dio e confessare la sua divina generazione confessandola io confesso con certezza Gesù Cristo e anche se non riesco a spiegarmi il mistero come il verbo procede fuoriesce da tutta eternità dal padre dice non ero presente quando il figlio il verbo esce generato dal padre però conosco benissimo l'autore di questa generazione perché si è manifestato l'ha detto questo è il mio figlio e così via vede dunque il più profondo principio di navigazione tranquilla di dominazione delle potenze disordinate della natura nella contemplazione del figlio di Dio e nell'adorazione della sua generazione che da tutta eternità fuoresce dal padre e non avremo mai abbastanza ripetuto che appunto sono questi misteri che non sono idee non sono miti ma sono la rivelazione della realtà che è il creatore del cielo della terra e che in nome di questa realtà di questa verità di fede si è fatta la civilizzazione e si sono vinti i turchi a Lepanto a Vienna oggi di tanto in tanto si dondola un rosario perché ci si ricorda di Lepanto ci si fa mandare magari una piccola benedizione da un cardinale conservatore perché questo tranquillizza un certo tipo di cattolici ma che da lì bisogna gettarsi a terra pubblicamente davanti al Cristo per ottenere la pace e l'ordine nell'Europa cristiana non se ne parla assolutamente non se ne parla la regione è una cosa privata e se pubblica debbiamo dare stesso diritto a tutti anche ai musulmani solo li mandiamo a casa perché ci danno fastidio ma è questo è questo l'atteggiamento cristiano cattolico voi pensate che le crociate sono state fatte perché davano fastidio ma non davano nessun fastidio agli europei che la terra santa era occupata da altri che fastidio dava è lontano no andavano lì per vendicare i diritti di Gesù Cristo e versando e versando il proprio sangue in tredici crociate ben 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 minimo due milioni di persone che sia di lezione a coloro che si fanno illusioni vedete e che pensano che da tiepidi navigatori si possa anche bene o male mandare avanti la barca di Pietro no la barca di Pietro va avanti ma tu tiepido l'avvocatore cadi fuori e sei inglutito dal mare e lì invece santo Agostino che ci parla oggi dei tiepidi quando ci parla di De Goliade abbattuto da Davide e quando ci dice però il vero Davide era il Cristo e che ha combattuto contro Satana contro il diavolo con il legno della croce e con quella vittoria alla differenza di prima di Gesù Cristo ci insegna Sant'Agostino Gesù Cristo ha legato il diavolo perché come vai a rubare le cose del forte se non prima ne leghi il proprietario e aggiunge poi però subito Sant'Agostino ma c'è subito una grande obiezione se Gesù Cristo ha legato così fortemente il diavolo con la sua morte in croce e esorrezione come mai tanto male dopo tutte le guerre ma soprattutto tutte le eresie i scismi se Gesù Cristo ha vinto il diavolo è legato perché l'Islam che da secoli e secoli distrugge l'Europa e il mondo perché è indipendentemente dalla stessa riposta che ci ha insegnato poco anzi San Girolamo i tiepidi sono poi vittima della violenza diabolica è lì che ci dà quel famoso oramai già conosciuto insegnamento esso infatti è legato come un cane alla catena cioè il diavolo dopo la vittoria di Gesù Cristo dice e non può mordere nessuno il cane attaccato alla catena non può mordere nessuno se non l'imprudente che gli si unisce con funesta confidenza vedete allora oh fratelli quanto è stolto l'uomo che si lascia mordere da un cane incatenato guarda quanto è stolto il cristiano che pensa poter indugere con le solicitazioni del mondo guarda quanto è stolto il cristiano cattolico che pensa possiamo fare la politica non sempre e soprattutto non mettendo avanti la religione ah puoi fare politica così allora sei stolto tu perché chi è contro di te lui la religione la fa ma fa la contro religione ah no questi sono discorsi fondamentalisti non mi fate nessuna religione il diavolo è fondamentalista e se non lo affronto con la croce di Gesù Cristo sono lo stolto che si avvicina al cane a una distanza meno lunga che non è la catena vedete allora fratelli quanto è stolto l'uomo che si lascia mordere da un cane incatenato quanto è stolto il cristiano che piange dei suoi peccati e poi si mette in condizione di pecare non fuggendo le tentazioni stolto il messaggio evita le tentazioni per poi non essere peccato tu non osare di unirti con lui coi desideri e coi cupidige del secolo la tripoli c'è complico di scienza la vana gloria il desiderio di possedere e l'andare dietro ai desideri della carne ben riuscito invece quello attaccato alla carne alla catena di trarre tutti in questo retaggio ansia per due soldi per arrivare a fine mese ansia di una casa che forse non si può neanche più mantenere pertanto è limo e ansia di passare come un fallito se poi magari mi faccio vedere senza lavoro senza cara da poco e lui non è non è non recede niente lo stolto si avvicina a lui ma lui morde morde e tira i denti dentro e poi a velena e questi sono solo i primi veleni perché poi ci sono tutti i veleni che sosseguono dopo la la vanagloria l'avarizia e i piacere della carne c'è tutto quello che va dietro la noia la noia il perdito di gusto delle cose divine e poi il lamentarsi e dalla lamentela nasce la critica quel veleno perfido pericolosissimo che fa poi inventare mille cose per paralizzare se stessi e gli altri e che questo morso avvelenatore della critica sia presto guarito anche in questa comunità tu non osare di unirti con lui con i desideri e con le cupidigie del secolo ed esso non oserà da costarti grande insegnamento adesso cari fedeli a ripetere a tutti quelli che corrono ai mille centri di preghiere di liberazione è tanto più vero perché io ho visti si rotolano per terra urlano grida tutti stendemoniati andiamo tutti alla preghiera di liberazione e poi per avere il surplus facciamo anche un viaggetto a Veggio cosa scrive qui invece Sant'Agostino può abaiare può provocare ma non può assolutamente mordere se non chi lo vuole perché esso nuoce non violentando demone non violenta non estorce con senso Satana no non fa così perché non fa così perché non violenta la nostra volontà perché non ci estorce un sì perché sa benissimo che non può Satana non può niente contro la nostra volontà ma persuadendo e sollecitando e noi siamo in un mondo che è fatto di sollecitazioni ed è fatto di suggerimenti che attraver appare attraverso ogni poro della vita è il primo canale infernale che sbocca dove in pieno al mio alla mia stanza del più bella del mio appartamento lì dove ho lavorato anche forse 25 anni per farmi questo mio bell'appartamento stabilirmi ecco qua nel più bell'angolo li mettiamo il televisore affinché Satana possa indisturbatamente venire a casa mia e solicitarmi e suggerirmi in continuazione sì però si può utilizzare bene perché ci sono anche dei bellissimi film sulla natura e documentari a me che è uno stupido Satana chiunque vende un prodotto sa che devo metterci tanto intorno per poi dare il prodotto e sappiamo bene che Satana convince e soddisfisce il male impacchettandolo in tanto bene l'importante è che attirato dal bene io poi prendo tacche te e ho morsicato il male sì quella televisione è veramente il buco verso l'inferno in casa e va e va va chiuso va chiuso quanto ci sarebbe cari fedeli ancora da esortarci e ammonirci a non lasciarci trarre da questi desideri del secolo invece abbracciare con forza la via molto stretta a quella sì la via molto stretta della salvezza che qui su terra costa sì tantissimo che Gesù Cristo vuole che rinunciamo a padre madre campi bene perfino la nostra anima sì però la ricompensa è anche mille volte più più grande nell'eternità da ciò cogliamo in ginocchio questi insegnamenti facciamo degni frutti di penitenza e ascoltiamoci in questo in questo spirito alla santa comunione affinché non possiamo essere morsi da Goliade che ci vuole annientare in nome del padre e del figlio e dello santo così sia salutato Gesù Cristo grazie grazie